La FIALS Salerno esprime un forte rammarico in merito alle recenti segnalazioni riguardanti l'operatività del SITRA, servizio infermieristico tecnico riabilitativo ed ausiliario dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, e con profonda delusione si legge in una nota dell'organizzazione sindacale che si segnala l'ennesima situazione in cui il SITRA non tiene conto delle richieste regolarmente presentate dagli operatori per trasferimenti interni. In particolare ci preme sottolineare il caso dell'infermiere che a seguito di una compensazione che doveva essere effettuata in chirurgia vascolare è stato trasferito in oncologia. Questo è accaduto senza considerare le precedenti istanze di altri infermieri. Questo ha comportato anche una mancata considerazione delle richieste già protocollate, ha detto il segretario generale della FIALS Salerno Carlo Lopopolo. Questa azione, prosegue Lopopolo, evidenzia una gestione improvvisata e contraddittoria del SITRA, priva di una logica apparente. I lavoratori si trovano ancora una volta a subire le conseguenze di decisioni arbitrarie che riducono o annullano completamente le loro opportunità di trasferimento legittimo. La FIALS prende atto dell'assenza di intervento da parte della direzione del Ruggi, che pur essendo a conoscenza di tali trasferimenti, alcuni dei quali sembrano avere connotazioni clientelari, non adotta misure per garantire processi trasparenti e legittimi per tutti i dipendenti. Ci chiediamo, conclude Lopopolo, quale sia lo scopo delle manifestazioni di interesse pubblicate per varie sedi o reparti, se poi si procede attraverso altri canali. Auspichiamo che la direzione strategica del Ruggi avvii un'indagine interna per ripristinare processi trasparenti e garantire il rispetto delle richieste dei dipendenti.